Federanziani Solidarietà ha aperto una finestra internazionale sul Kenya. Nell'entroterra di Malindi esiste un'area di circa 50.000 persone riunite in piccoli villaggi che non ha veramente nulla. Abbiamo iniziato con la costruzione di un pozzo dell'acqua che rappresenta il centro della vita di questi villaggi, creando intorno una serie di strutture che vanno da una scuola per bambini a un refettorio, a un campo da calcio, ma una cosa molto importante secondo me è una scuola di mestieri. Una scuola di mestieri dove in effetti c'è chi impara a suonare la chitarra, chi impara a fare l'acrobata, chi in effetti ha la possibilità di imparare un mestiere molto semplice come quello del muratore, se non dell'artigiano. E attraverso questo ciclo biologico che cerchiamo di creare in Kenya non facciamo nient'altro che aiutare queste persone a trovare un lavoro nei vari alberghi e poter loro stessi mantenere le loro famiglie. Associato a questo c'è una realtà molto più triste. Abbiamo individuato un orfanatrofio che ospita all'interno 75 bambini, tutti malati da AIDS, tutti orfani ovviamente, e abbiamo creato un sistema di ausilio a questo orfanatrofio che vede l'alimentazione in prima linea che noi stessi forniamo con i prodotti comprati in loco, il vestiario, le scarpine, ma in modo particolare abbiamo creato una vera medicheria con due medici che sono presenti due volte a settimana, sempre gli stessi, conoscono regolarmente perfettamente tutti quanti i bambini e hanno modo di dare un ausilio professionale dove veramente non esisteva nulla. Mario Scibrario, tour operator, parliamo di turismo per anziani. Quali sono i punti di forza del viaggio in Kenya organizzato da Senior International Tourism? Per gli anziani, soprattutto per questo target, i vantaggi sono molti. Il primo punto di forza è il volo perché il Kenya si trova esattamente sotto l'Italia, l'Equatore. Il volo dura solamente sette ore, andando del nord a sud, e si passa il Mediterraneo, il Sahara e l'Etiopia, che sono tre località dove non ci sono mai perturbazioni. Quindi per tutto l'anno il volo è un volo tranquillo, diretto, sette ore è come prendere un treno per la Calabria o il traghetto per la Sardegna. Poi una volta arrivati in Kenya, essendo sotto l'Italia, il fusolario è solo un'ora, per cui non c'è nessun tipo di problema legato al fuso, di sentirsi di tirare indietro l'orologio o avanti con problemi alimentari, eccetera. Terzo punto di forza è il clima. Il Kenya ha alle sue spalle i grandi gattiene montuosi del Kilimanjaro in Monte Kenya e c'è un'aria sempre fresca, pur essendo all'equatore, è super igienizzata e ossigenata. La gente quando arriva in Kenya è una promessa che faccio, si sente come se prendesse le vitamine tutti i giorni. L'altra cosa è l'alimentazione, perché sia il pesce che la carne che i prodotti dell'agricoltura sono tutti prodotti naturali in quanto non vengono utilizzati i pesticidi, addirittura gli animali non sono in stalla ma sono tutti liberi, per cui quando si mangia bene e si respira bene si diventa estremamente forti.